Sopra un luogo tecnico allo stadio Guido Biondi di Lanciano scelto come luogo per i due concerti Club delle Feste di Settembre. Daniele Silvestri il 16, Simona Molinari il 15 si esibiranno sul palco 10x12 che sarà allestito davanti ai distinti con il pubblico sul prato. Mille i posti a sedere, non uno di più per il rispetto delle norme anti-covid. Il presidente Maurizio Trevisan. Abbiamo effettuato il sopralluogo con i tecnici della produzione e con gli ingegneri che si occuperanno delle norme di sicurezza e quant'altro e devo dire che tutto sommato il sopralluogo ha dato esiti positivi quindi procediamo tranquillamente. E vanno a ruba i biglietti sulla piattaforma online Ciao Tickets a circa due settimane dagli appuntamenti con i concerti. Ma la prevedita penso stia andando benino, abbiamo venduto circa 600 biglietti quindi prevediamo insomma il sold out per quando sarà l'evento. E poi in centro città, soprattutto in piazza Plebiscito, comunque si potrà organizzare qualcosa per circa 200 posti? Si organizzeranno eventi ovviamente minori e di piccola entità tanto per dare la possibilità a chi non potrà partecipare o non vorrà partecipare ai concerti delocalizzati per i motivi che tutti conosciamo insomma di poter assistere a spettacoli minori capito pure anche per chi magari non vuole spostarsi, insomma per dare un po' di movimento al centro sempre rispettando le regole e insomma dando la possibilità di svaghi vari a chi ha intenzione di passeggiare oppure di uscire quelle sere. Nel frattempo prosegue anche la quest tradizionale in città? Sì prosegue ma quella credo che non stia andando molto bene, comunque insomma non è che facciamo affidamento su quella perché anche negli altri anni insomma non è che ci ha dato tanta soddisfazione, però quello che viene insomma sarà ben accetto. Infine i fuochi d'artificio lo sappiamo sono stati annullati tranne qualcosa che si farà però sulla torre civica la notte del 14 all'apertura? Sì ci sarà la tradizione batteria che apre la novena della Madonna del Ponte e cioè il 29 all'1 e mi impiazza la solita batteria e ci sarà un fuoco diciamo simbolico che probabilmente si farà sul campanile tanto per insomma per rievocare la tradizione del settembre lancianese per insomma per non lasciarla cadere così ecco diciamo uno sparo simbolico alle 4 di mattina che notoriamente apre le feste di settembre.